ciao a tutti allora eccoci qua come come avete letto dal titolo oggi parliamo delle quote rosa degli eroi i buoni dei master che abbiamo ne abbiamo quattro una lipa la metto dopo allora abbiamo sorceress sempre della masterverse abbiamo tila sempre della masterverse tila però in versione questa volta maga quindi diventa la nuova sorceress la guardiana del castello di grayskull e vi come visto nell'ultimo cartone animato mai vista però nel cartone animato l'han fatta a me piaceva l'ho presa e poi vabbè abbiamo shira e che dire eccole qua tutte e tre di shira non un'altra versione che però vi farò vedere dopo le altre buone abbiamo già fatto video quindi di tila classica tila con i capelli sciolti e poi chi è che c'era no basta solo loro due niente io direi di cominciare a vederne una per volta quindi io partirei con sorceress eccola qua alzo un pochino la terca se non si vede questa purtroppo non è la versione classic ma né origin né quella degli anni 80 che è uscita però verso la fine io me la ricordo non mi faceva tanto impazzire comunque se trovo delle foto le metto qua di tutte le versioni che sono uscite e quindi qui abbiamo vabbè vedete nella foto abbiamo dei personaggi che ve lo male c'ho quasi tutti per non dire tutti ne manca uno solo e qua abbiamo la nostra sorceress che è fatta veramente veramente bene ora abbassa un po' la luce se non vedete niente il volto è stupendo il disegno è stupendo manca l'aquila purtroppo perché in quella classic c'era l'aquila il falco non aquila e purtroppo non ce l'ho c'ho solo la versione cattiva o non buona invece in questa non credo che ci sia buttata dentro ma non la vedo quindi non c'è peccato io quando ero piccolo c'avevo il giocattolo quello vi ricordate che per la fine era il falco l'aquila di big e gym ricolorata e trasformata in lei c'era quel pulsantino dietro che premevi e volavano si muovevano le ali molto grossa non in scala con i personaggi però quello con la fantasia di pensavi che lei diventava perché era lei si trasformava in aquila ma diventava un'aquila enorme e in falco non in aquila e vabbè niente che dire eccola qui molto molto bello ora l'apriamo è un po' che l'ho presa ma tanto tanto ma lì c'ho anche tasta sulla destra di master che a mano a mano che le trovo le offerte e mi piacciono li prendo infatti qualcuno me lo sono fatto scappare che erano delle buonissime offerte tipo 10-15 euro ora hanno aumentato i prezzi e me ne sono pentito però è così allora niente apro la confezione ed eccola qua come dicevo del falco non c'è ombra peccato potranno farci un piccolo falchetto con la sua base soprattutto in lei ok niente comunque va bene così chissà se mai faranno un set col falco molto molto bella io avevo la versione anche 200x no la versione gli anni 80 come ho già detto non l'avevo non mi piaceva tanto poi è uscita tardissimo ormai non le collezionavo più non è che non mi piaceva forse era uscita troppo tardi e avevo la versione 200x e poi questa e la 200x era molto bella e lì ti davano il falchetto insieme vestito in plastica ovviamente tranne la parte dietro che è in stoffa va bene la tiro fuori dalla sua confezione e la vediamo meglio eccola qua ragazzi eccola qua ha il mantello quello classico che bisogna far passare le mani da mettere nelle braccia come aveva la Evelyn in quella versione maga però basta levare le mani e ne stare attenti e si infila e in lei non ce l'ho riuscito perché non ho calcolato di levare le mani sono sincero comunque è molto 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 bella vestito in gomma guardate il volto quanto è bello il volto dell'aquila guardate bello davvero guardatela dietro sempre vestito in gomma sotto bella proprio proprio bella bella davvero non voglio perdere troppo in chiacchiera perché sono tanti sono tanti personaggi quindi rischiamo di fare un video lunghissimo però guardate anche qua il falco nel suo bastone davanti e dietro invece di avere due davanti ha un davanti e un dietro e non si vede perché non si mette a fuoco aspettate un attimo vedete troppo bello fatta bene proprio fatta fatta bene poi c'è la bella versione della maga tutta bianca nei master rest non so se è uscita era uscita nei classic e non mi ricordo nel giocattolo vecchio ma non credo perché nei primi nelle prime immagini si vedeva la maga ma era tutta bianca non era così colorata però se adesso scende master se vediamo se è bella con questa cara la prendo per ora non credo che sia uscita però è bella così colorata con questo arancione azzurro bianco vedete c'è proprio bella ok allora non ci perdiamo in chiacchiere del tempo e passiamo alla seconda io passerei alla maga tila bella bella anche questa molto bella almeno adesso la vediamo il bastone è uguale c'è il bastone lo scettro lì come lo vogliamo chiamare è uguale c'è un cambianca un tubo ci sono sprecati sì che sarà lo stesso che lei gli ha passato non mi ricordo perché questa versione qui è uscita nell'ultimo cartone di mato nei revolution e nel primo o nel secondo non me lo ricordo comunque nel primo mi sembra che sorceress muore quindi spero di aver fatto degli spoiler però e poi allora diventa la maga diventa tila però poi non mi ricordo come va a finire perché la maga del castello deve rimanere nel castello può uscire trasformandosi in in falco allora può volar via ma non può in forma umana lasciare il castello questo l'avano spiegato anche nei vecchi cartoni animati quindi questa è una cosa risaputa e non mi ricordo come fa perché spoiler quindi tappatevi le orecchie per qualche secondo se non lo volete sentire tila a poi a sposare i men perché poi si mette insieme i men quindi non mi ricordo non mi ricordo poi c'è la versione di tila che diventa quella versione tipo serpente con la pelle verde che dovrebbe uscire quella mi piace la voglio prendere però non mi ricordo comunque vabbè questa è la confezione molto bella questa immagine qui davanti si vede che è una versione dell'ultimo uscito perché è un po' diversa mentre quell'altra di sorceress era una delle prime versioni dei primi giocatori usciti del revelation e è molto molto bella molto a vedere così sembra molto molto bella che assomiglia molto però è bella vabbè ragazzi non perdo tempo l'apriamo perché è bella sigillata come dico sempre si vede scusate sta a telecamera dobbiamo tenere ferma anche dalle confezioni interne che queste sono la nuova versione quella è la versione le prime versioni uscite perché queste hanno tutte queste scatolette interna blu dove dentro ci sono le armi e in questo caso ci saranno solo le mani perché il bastone c'era qui e non c'è altro eccola qua ora apriamo qui tiriamo fuori le mani speriamo che non cade eh li li e qua c'è la bustina sicuramente con le mani allora vediamo forse no i gancetti ce l'ha anche questa molto molto bella anche lei anche lei c'ha il mantello in stoffa e sotto in gomma va bene apriamo qua nella bustina bianca come ho detto ce l'ha le mani aperte le metterò una sì o una no eccola qua ragazzi molto molto bella anche lei molto ah sì ha qua che si muove la parte sopra qui che si può spostare anche quell'altra ci l'ho fatto a caso quindi è molto molto bella molto 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 guarda il volto sopra con quella specie di 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 testa dell'aquila anche lei questa specie di copricapo che non so come si può chiama diadema sul petto capelli belli che sono le altre non si vedono ma il bastone qui è identico con l'altro quindi se non sto neanche a perdere no i c guardate come è fatto bene sembra quasi che si possa levare il copricapo in realtà no però è fatto bene è fatto bene qua farlo un po' staccato no sono belle sono fatte bene proprio fatte bene ora vi faccio fare un giretto anche di lei credo che sia la prima versione che esce di Shira Maga non me la ricordo né nei 200X non me la ricordo né negli Origins cioè quelli ultimi sì i primi che sono usciti negli anni 80 no negli ultimi non so se c'è negli Origins ma io gli Origins non è che li colleziono tanto e proprio non ne ho preso soltanto quella Principe Adams perché mi interessava Cringer se no è bello il mantello di due colori così e sotto quello di gomma non nei 200X non c'era nel carto di matto non c'era quindi insomma c'è solo nella versione qua Revolution di la Maga perché hanno fatto morire il Sorceres vabbè vabbè non mi è piaciuta questa cosa però va bene così i cartoni di matto secondo me dovrebbero fermarlo non proseguirlo e rifarlo completamente perché hanno fatto di quelle cretinate tipo un personaggio forte come Fisto l'hanno fatto vedere morire in pochi secondi come ho già detto nel video che riguarda Fisto che forse non ho ancora neanche pubblicato proprio lo metterò quindi ho fatto uno spoiler anche sui miei video allora l'altezza è sui quasi 18 17,5 18 invece il Sorceres sembra leggermente più bassa però adesso per ve le metto vicino e vi faccio fare un bel giro vicino di spalle vabbè sono più belle secondo me messe di spalle infatti si vede tira leggermente più alta bella questa cosa bella un'altra riflessione tutti gli altri uguali anche se ne è un pochino curva in avanti però secondo me è leggermente più alta bella anche quella scarpa col tacco rialzata dietro bicolore che ha sottila vedete non ci ho fatto caso ok e adesso passiamo all'ultimo personaggio anche se c'è lo doppio però sono due cose diverse eccolo qua parliamo di shira la versione deluxe però non costa caro l'ho trovata in offerta l'ho presa sempre su amazon su ib adesso mi ricordo perché è un po' che l'ho presa l'ho messa lì ho detto prima o poi prima o poi però non l'ho mai fatto quelli due lì a parte vabbè quelli man con la versione lì che francamente non ho mai neanche nominati perché non dico cosa mi fanno ma a me non piacciono per niente per niente non so cosa ci mettono la foto qua sia la Mattel però poi hanno fatto quelli con le gambine piccole e il busto grosso no 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 parlo per me poi gli altri fanno quello che voglio a me non piacciono come non mi è piaciuto che c'è chiamato di Shira con la versione un po' più moderna che han fatto no aspettiamo se esce la versione per noi allora parliamo di Shira Shira cos'è Shira anche lì c'era la versione anni 80 che qua metterò la foto questo scusate mi sono fermato a guardare il volto che non mi piace vabbè tanto ho intenzione di mettere quest'altra testa qui che mi piace un po' di più qua davanti con questi denti in fuori in vista con quel muso in avanti non è brutta ma non mi piace vabbè e quello che dicevo io di Shira era uscita ma era uscita una versione per le donne per le bambine non per le donne per le bambine era quella che aveva i capelli come si può dire acrilici che le bambine c'era anche il pettine mi sembra che si pettinava però è uscita la versione classic ed era molto simile anche lì aveva i capelli che si potevano pettinare comunque metterò delle foto qua poi è uscita la versione molto bella di Adora sempre di classic la versione quella di di Spara che era Tira perché non era ancora Shira Tira la versione quella di Hordak che stava con gli Hord poi vedete le cose non stanno bene perché lei pensava che gli Hord erano della parte della ragione invece faceva cose che gli Hord erano dei tiranni quindi non erano tanto buoni allora poi vabbè diventa Shira e vabbè così via a trama non la raccontiamo e poi scopre più là che la sorella del principe Adams che è stata rappita da Hordak quando era appena nata e portata via insomma la trama questa la vedete nel segreto della spada mi sembra hanno fatto due film filmation una segreto della spada qual'altro mi sembra che è Shira e Iman Iman e Shira il dolce natale qualcosa del genere e raccontano la trama ma il segreto della spada è quello dove raccontano tutto c'è anche il DVD io ce l'ho da qualche parte originale anche se non servirebbe dire però specifico originale molto bello ma comunque lo trovate in giro e e dispara e c'è questa maschera che sembra un po' tipo Hordak molto inquietante brutta e anche che c'è uscita quella versione di The Classic The 200X no non mi sembra però non ce l'ho e si trova a dei prezzi esorbitanti e e va bene così e niente allora apro questa la vediamo e poi vediamo anche l'altra versione perché a volte viste così sembrano un granché poi invece viste bene sono belle eccolo qua quello l'ho tirato fuori dalla sua confezione come vedete c'è due mantelli uno lungo e uno più corto ora vediamo se metterci quello lungo perché vabbè poi lo vedrete qua c'è due teste una con la maschera inserita e una con quella specie di diadema che c'è sempre in testa classico due pugni vabbè lo scudo questo stivane è lavorato molto molto bello la sua classica spada eccola qua questa è la versione classica che tutti conosciamo non ho messo lo scudo perché tanto lo scudo era la spada che si trasformava sia in scudo in frusta cosa che in e-man non succedeva e poi francamente lo scudo poi lo vedrete cioè in questo caso non mi serve ha un po' il vestitino qua c'è una macchiettina la spada qua un po' segnata è tanto che l'ho comprata però insomma è bella c'è il suo mantellino in stoffa questi bei capelli lunghissimi biondi questa specie di di corona la fascia del mantello sul collo però non è brutta neanche di volto molto molto carina molto pensavo che era peggio francamente di stai in scatto infatti come ho detto prima tiriamola fuori però giudichiamo non è bella molto un bel volto un po' appuntito però molto molto bello guardate l'occhio proprio bella 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 adesso faccio fare un giro metto la modifico la trasformo in un'altra versione che non conosco perché io non mi ricordo sì la maschera ogni tanto la tirava giù però non mi ricordo il perché nel cartellino di moto il cartellino di moto era bello era più per maschi che per femmine anche se sicuramente guardavano la femminucce però invece il pupazzo il giocattolino che era uscito anni fa era quello era per femminucce che se guardate il cartellino di moto l'avete già visto il documentario non era il documentario sui cartelli animati non sui giocattoli sempre mi sbaglio sui giocattoli degli anni 80 spiegano che le scira dovevano essere grosse come le barbie però poi quelli che hanno della mattella gli uomini si sono arrabbiati hanno detto no devono essere alte come i master infatti le hanno fatte alte come i master solo sarebbe stata una versione della barbie in versione con la mascherina abbassata con la sua spada col mantello più lungo e non è stato facile levare la testa perché avendo il mantellino qua in plastica dura e queste parti in plastica no la gomma anche qua però avevo porre di spaccarla invece ve lo manda tutto bene come vedete la testa rimane un po' più salda però adesso non sta bene non sta male assolutamente il mantello è un po' più lungo ed eccolo qua molto molto bello faccio fare un giretto grazie a tutti Grazie. Ok. E questa la mettiamo di qua. E ora passiamo all'ultimo personaggio. Parliamo di She-Ra in versione Super 7 Filmation. Questa è uscita, parecchia anche questa, vabbè, molto prima di quell'altra. Si parla di tanti anni fa, non mi ricordo quando. Comunque tanti anni fa, perché poi avevo smesso di collezionarli, non mi interessavano più. E avevo anche quella 200X molto bella. E molto bella anche la 200X, una bella confezione. Non ho mai avuto il cavallo, perché nella 200X non credo che era uscito il cavallo. Non me lo ricordo. Perché poi i 200X hanno terminato, hanno finito di farli, quindi hanno fatto qualche statuetta della NECA per completarli, ma le cose tipo i cavalli così non l'hanno mai fatti. E allora poi dopo un po' di tempo, vedete perché servono quelle lì, per questo motivo qua. Queste basi qui, perché purtroppo i piedini sono di gomma un pochettino, si rispostano e ecco lì che cade. Allora, e ho preso questa. Poi vedete, non mettendo questi qua, un giorno mi è caduta e mi si è spaccato il corno. Un puntino sono riuscito a rincollarlo, ma l'altro puntino non lo trovo più. Non sono andata a finire, lo lascio così. Allora, dato che ho già questa versione comunque di shira, con il vestitino corto, vabbè, il vestitino corto ce l'hanno tutte, con il mantellino rosso e con questa specie di corona. Quell'altra ci ho messo la corona che copre gli occhi, tipo mascherina e il mantello più lungo. Anche questa è fatta molto molto bene, ha una versione un po' più lucida, un po' più elasticosa. E' bello, erano più belli i cattivi della Super 7, però l'unico che non mi piaceva della Super 7 versione Filmation era Trap Joe, perché eravamo fatto rosa come cartone animata, non si poteva vedere. Infatti c'era là, ma non mi ero rifiutato di comprarlo. Trap Joe è uno dei personaggi che mi piace più di tutti oltre Fisto e... no, 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 no. Bene, l'ho rimessa nella sua versione classica per farla vedere e paragonarla un attimino alla shira della Super 7 della Filmation. E' più bella sta qua, quella che è uscita adesso. Adesso vi faccio fare un giro, poi li metto vicino così li vediamo bene da vicino. Diciamo che quella nuova è il collo un po' in avanti, questo è il collo bello dritto. Peccato che non mi è caduta, lì vabbè. Allora, mettiamolo vicino, tenete presente che questa è un po' più alta perché c'ha queste basette qua sotto che purtroppo le ho finite. Appena mi arriva la metto anche a lei perché è un po' instabile con questi piedini. Ed eccole lì, guardate un po' le differenze. Adesso vediamo se riesco a valgare un pochettino i volti. Beh, una ha il volto molto plasticoso, che è quella della Super 7. Bello ma plasticoso. Questa ha una colorazione proprio un'altra cosa. Vabbè, questo va. Tanto la scuola della Super 7 credo che non si trovi più. Se si trovano è difficile. Io ho qua a quei tempi quella classic non sono riuscito a trovarla. E io ho preso questo qua che era appena uscita questo mio ragazzo della mia città che le vendeva a buon prezzo e l'ho presa. Allora ragazzi, eccole qua. Un quartetto di amazzoni, di idee guerriere, buone dei master. Tutte bellissime, tutte fortissime. Ed eccole qua. Ragazzi, che devo dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi auguro tanto di sì. Se vi è piaciuto lasciatemi un like. Se potete seguitemi perché usciranno altri video su master, su altre cose e su quello che compro. Vabbè ragazzi, dai, ricordatevi di lasciarmi il like perché mi piace e ci tengo. E di seguirmi, come ho già detto. Ciao e al prossimo video. Ciao ciao.